Io continuo a divertirmi molto a fare la musica, questo è il motivo per cui poi faccio anche altri generi, per cui continuo a fare musica con i miei amici che hanno preso delle strade diverse ma penso che sia giusto e è un piacere per me continuare a fare il rap classico come mi piace. E' fuori adesso il disco di mio fratello Drone, cuore e sangue e sentimento in cui siamo tutti tra 126, ci vengono anche arrivative questa cosa. Sarai a Rock in Roma tu ma è stato annunciato alla conferenza stampa anche Ketama. Sì ci sarà anche Ketama, ovviamente saremo tutti tra gli ospiti perché è sempre un piacere stare sul palco con le persone con cui ho iniziato. Che è un po' una caratteristica secondo me del vostro genere, cioè quella comunque di non abbandonarvi mai in un certo senso. No, guarda, più che del nostro genere, credo nel nostro collettivo, nel nostro approccio alla musica, al genere. Le persone sono abituate ad ascoltare anche generi differenti e quindi nessuno si sorprende se io faccio un pezzo più pop, un pezzo che invece è crudo, è un pezzo al core. Non è più vissuto questa cosa come un problema come magari poteva essere negli anni scorsi. Bevevamo contro voglia liquore al sambù e io mettevo troppa salsa crotolce sui nuta e coprivamo coi calzini d'allarme il tifuno. Stanza singola numero due e passavamo le giornate a mangiare sul letto e dormivamo stesi in mezzo a briciole di Kellops, ma sotto i racci di un ombrello piegato dal vento.